Sono davvero felice e onorato e anche un po' emozionato di dare il benvenuto al Primo Ministro Shinzo Abe a tutta la sua delegazione delle autorità giapponesi in questo meraviglioso luogo che è il Salone dei 500 nella mia città, Firenze, nel nostro Paese. Grazie Shinzo per aver accolto il mio invito e il nostro invito. Grazie. Alla, la mia città italiana, il nostro Paese mi appoggiere il piore della borsa nel nostro paese. Questo è il salone che ospitava i grandi incontri della città di Firenze. Lo ha fatto nell'epoca del Rinascimento, lo ha fatto nel ventesimo secolo e oggi la presenza del primo ministro di un grande paese come il Giappone, di un paese amico, di un paese alleato, di un paese che ha scritto la storia e che scriverà il futuro, rende, credo, tutti i fiorentini e gli italiani orgogliosi del fatto che il Salone dei Cinquecento, dove hanno lavorato Leonardo da Vinci e Michelangelo, dove si sono succeduti i capolavori della storia dell'arte, ospiti una delegazione così importante. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Non è mai stato un momento così utile e opportuno alla presidenza giapponese perché nello scenario internazionale americano e europeo abbiamo una necessità straordinaria di cogliere l'occasione che verrà dal G7 giapponese. Dunque davvero dal profondo del cuore in bocca al lupo caro Shinzo per la vostra presidenza noi saremo in prima linea al vostro fianco perché l'evento di maggio possa essere un successo. Sono Gianluca e environ 5 anni. E quindi si non è tutto ciò che sentimo può essere un'occasione che mi ha detto. E quindi abbiamo febito di rinconi e per la vostra presidenza noi abbiamo una cond串emento in una situazione di Popola. Grazie a tutti. Delle cooperazioni e collaborazioni aperte, Enel Green Power e Marubeni Corporation hanno siglato un'importante intesa, delle opportunità che si aprono agli scambi economici, ma anche, lasciatemelo dire a Firenze, agli scambi culturali. Questo è il centocinquantesimo anniversario della firma del trattato di amicizia e di partnership tra Italia e Giappone. Lo festeggiamo con grandi mostre in Italia, le scuderie del Quirinale e in Giappone che sono già state aperte. Dunque, una partnership a 360 gradi, un livello di amicizia che è per noi un elemento di orgoglio e di gioia. E allora, Ora, caro Shinzo, grazie di nuovo per la tua presenza qua. Questa è una settimana molto importante per la politica estera in Italia. Tra qualche giorno verranno in Italia i principali esponenti delle istituzioni europee, a cominciare dal presidente Juncker, dal presidente Tusk, dal presidente Schulz, per gli incontri europei, li riceveremo a Roma. Verrà la cancelliera Merkel per discutere insieme della fase che stiamo vivendo a livello europeo. Sarà giovedì a pranzo a Palazzo Chigi. Oggi abbiamo avuto la straordinaria notizia dal Tribunale internazionale. Ho parlato qualche istante fa con il nostro Marò Salvatore Girone, che potrà rientrare in Italia in attesa delle decisioni del Tribunale internazionale. Un passo in avanti davvero significativo, al quale abbiamo lavorato con grande dedizione e determinazione. Approfittiamo per lanciare un messaggio di amicizia e di volontà di collaborazione insieme al grande popolo indiano, al primo ministro Modi. Noi siamo sempre pronti a collaborare e a lavorare insieme. Bene, è una settimana dunque che sarà caratterizzata da tanti eventi di politica estera. Questi eventi di politica estera si aprono simbolicamente con la presenza del primo ministro del Giappone e presidente del G7 per il 2016. Noi vogliamo insieme ai nostri amici giapponesi dare un messaggio che la politica mondiale è in grado di orientare la crescita, di investire sul futuro e lo facciamo, grati al sindaco Nardella e a tutte le realtà istituzionali, da questa città di cui tante volte ho parlato al primo ministro Abe, tante volte ti ho persino dato noia, Shinzo, a parlare della bellezza di Firenze. Oggi sono felice di poterti offrire insieme alle nostre mogli un piccolo momento di pranzo nella sala degli elementi e poi cammineremo insieme nel corridoio vasariano, cammineremo insieme, entreremo agli uffizi, alla galleria degli uffizi, cammineremo insieme con la delegazione al corridoio vasariano, usciremo a Palazzo Pitti. Segno evidente che i nostri Paesi non hanno soltanto in comune la volontà di partnership economica, ma anche la cooperazione culturale. In questo momento in cui l'Italia sta investendo tanto sulla politica estera, la tua presenza per noi è davvero elemento di grande gioia. Grazie dunque, arigato e benvenuta a tutta la delegazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e quindi Grazie a tutti. 日本、イタリア、ここ150年の今年に、マッテオの地元である美しい、そしてイタリアの魅力的な文化と歴史があふれたイフレンチェで、首脳会談を行えたことは、私の喜びとするところであります。 そしてまた、先ほどはマッテオに案内をしていただきました。世界で最も美しい伝統のある視聴室も拝見させていただきました。 そしてフレンチェ、そしてイタリアの皆様の温かい歓迎にこれから御礼を申し上げたいと思います。 私は非常に嬉しいです。 che tra l'altro appunto è la città di Matteo, questa città dove ogni angolo veramente emana il fascino della storia e della cultura italiana e di essere qui proprio in quest'anno particolare in cui noi festeggiamo 150 anni di amigizia tra Italia e il Giappone tra l'altro ho avuto anche, Matteo mi ha anche fatto omaggio di farmi vedere forse l'ufficio comunale che ha più storia al mondo voglio qui ringraziare i fiorentini e gli italiani per tutto il calore con cui sono stato accolto ormai ci stiamo approssimando al summit del G7 che avrò l'onore di presiedere a fine mese a Ise Shima in questo senso desidero veramente lavorare a stretto contatto con Matteo che rappresenta l'Italia che l'anno prossimo presiderà il G7, lavorare per il successo di questo vertice al summit noi paesi del G7 che siamo accomunati dalla condivisione di valori universali quelli della libertà, la democrazia, i diritti umani e il rispetto della legalità ecco noi dovremmo discutere dei problemi mondiali con una prospettiva strategica soprattutto sui temi principali, i temi dell'economia mondiale, la lotta al terrorismo la risposta alle crisi migratorie, ecco il G7 deve mostrare coesione e inviare un forte messaggio al mondo queste sono le posizioni che ho riferito oggi a Matteo ho incontrato il suo forte sossegno e in questo senso è stato un colloquio veramente molto significativo In questo colloquio io e Matteo abbiamo condiviso la consapevolezza che dai paesi del G7 ci si aspetta una accelerazione delle riforme strutturali che sia accompagnata da una mobilitazione di politiche fiscali flessibili. Questo affinché si possa superare la congiuntura attuale, si possa permettere di evitare di ricadere in crisi future e si possa stimolare naturalmente la ripresa economica mondiale. Ci siamo trovati d'accordo che al summit di Sashima nel G7 dovrebbe inviare un messaggio forte in questo senso. Con Matteo abbiamo anche celebrato insieme il centocinquantissimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i nostri due paesi. Quest'anno è un'occasione particolare per rafforzare ulteriormente, insieme con la collaborazione di Matteo, i legami che uniscono i nostri paesi in tanti settori, dalla politica alla sicurezza, dall'economia alla cultura. In occasione di questo anniversario, proprio nella seconda decada di questo mese, le loro altezze imperiali, il principe Akishinomiya e consorte verranno in visita ufficiale in Italia. Il Giappone e l'Italia stanno lavorando insieme proprio per dare grande entusiasmo a questa celebrazione di centocinquant'anni. Concludo ringraziando nuovamente Matteo e la gentile signora per avermi invitato qui a Firenze, la città del fiore, la città che è la culla della civiltà del rinascimento. Da parte mia vorrò ricambiare a Ise-Shima in occasione del Sun Summit. Mostrando le bellezze naturali, la cultura e le tradizioni del mio paese. A questo G7 desidero lavorare veramente in stretto contatto con l'Italia che presiderà il G7 l'anno successivo. Sono comunque veramente impaziente di poter accogliere Matteo e signora a Ise-Shima. Grazie. 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 Grazie.